questa è la nave scuola palinuro è la seconda dopo la vespucci come importanza e nave scuola appunto perché serve per addestrare gli accademisti praticamente con questa hanno fatto il giro del mondo più volte questa è chiaramente l'americo vespucci stasera parte è ormeggiata al porto di livorno come si sa come vedo come vi dico via un bellissimo favoloso tre alberi